La provincia di Pesaro Urbino ha un nuovo presidente. Questa mattina infatti tutti i sindaci della provincia erano convocati in Viale Gramsci a Pesaro per votare il candidato unico Giuseppe Paolini, sindaco di Isola del Piano e grande sostenitore del Biologico. Tra i primi ad arrivare Matteo Ricci, sindaco di Pesaro ed ex presidente della provincia. Credo che noi dobbiamo, adesso che gradualmente le risorse sono state restituite, lavorare sempre più perché la provincia sia anche luogo di semplificazione. Quindi dal mio punto di vista non si deve tornare all'elezione diretta ma deve combaciare con la provincia altri ambiti tipo lato per le acque, tipo lata per i rifiuti. Essendo casa dei comuni non si capisce perché ci devono essere queste moltiplicazioni di enti. Questa è la mia idea, su questo stiamo lavorando a livello nazionale. C'è molta confusione perché non sappiamo che idea ha il nuovo governo su questo tema però come Anci continueremo a portare avanti questa posizione. Insomma, malgrado la riforma del Rio, la provincia continua ad esistere e a derogare funzioni fondamentali come la gestione dell'edilizia scolastica e la manutenzione delle strade provinciali. Se ci sarà un ripensamento, come spero, da parte del Parlamento e del Governo e verranno messe risorse per le scuole, per la viabilità, per la difesa del suolo e del territorio probabilmente potrà fare una cosa buona insieme al Consiglio e curare l'interesse della comunità soprattutto dei più giovani perché riguardano le scuole, le scuole superiori ma anche la viabilità e la mobilità perché è uno dei temi importanti della sicurezza stradale e la sicurezza del territorio. A votare è arrivato anche Daniele Tagliolini che oggi viveva il suo ultimo giorno da Presidente e che tornerà a occuparsi di Peglio a tempo pieno. Ultimo giorno all'interno della provincia Faccio anche un'analisi generale rispetto a questo mandato, molto difficile ma fatto anche di tante soddisfazioni. Quella a cui tengo di più è sicuramente il percorso legato all'edilizia scolastica, alla programmazione scolastica perché i 17.000 studenti del nostro territorio penso che abbiano avuto l'opportunità di dialogare in maniera diretta con un'amministrazione pubblica. Gli investimenti fatti li dobbiamo sicuramente mettere a sistema insieme a loro e il fatto che poi venga in sostituzione mia un Presidente, Giuseppe Paolini, sindaco di un piccolo comune che ha da sempre un legame diretto con le scuole attraverso la fattoria della legalità, il biologico, fa sicuramente ben sperare che questo percorso possa essere sostenuto e attivato costantemente. Il nuovo Presidente della provincia, Giuseppe Paolini, punterà sullo sviluppo delle culture biologiche e soprattutto sulla legalità, un tema a cui è molto legato operando da anni programmi specifici presso la fattoria della legalità di Castelgagliardo. Mi appresto a questo incarico con molta umiltà e anche trepidazione e spirito di servizio. È difficile sicuramente andare a sostituire un Presidente speciale per me che oltre ad essere un grande amico che è Daniele Tagliolini che ha fatto tantissimo per questa provincia nel momento in cui nessuno più credeva nelle province. Io spero di continuare sulla sua rotta, continuare sulle cose che ha fatto lui.